Dai giovani della resistenza che 80 anni fa contribuirono a liberare Napoli dalle truppe tedesche, ai giovani di oggi, che si distinguono soprattutto sulle pagine delle cronache locali e nazionali per episodi di cronaca nera. A pochi giorni dalle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario delle quattro giornate, il parallelismo tra i valori di quella città che per prima in Italia insorgeva contro l'invasore e quella di oggi, è venuto automatico allo storico Guido D'Agostino, presidente dell'Istituto Campano di Storia della Resistenza, intervenuto questa mattina alla presentazione del programma di celebrazioni preparato dal Comune di Napoli. La differenza enorme è che chi si è mosso 80 anni fa immaginava di aprire una finestra su un mondo nuovo e diverso. Non c'è niente oggi dietro la violenza che vediamo quotidiana contro quella delle donne oppure le gang di minorenni, ma quale mondo nuovo c'è dietro di questo? Mi pare una differenza formidabile, fondamentale. Chi si è mosso e ha rischiato la vita e tante volte ce l'ha rimessa, ha letteralmente aperto una finestra su un mondo nuovo e diverso. Quello che sta succedendo oggi è che non c'è finestra, non c'è mondo nuovo. Circa 50 gli eventi previsti, tra cerimonie commemorative, spettacoli musicali e teatrali, incontri, convegni e attività per le scuole. Il 27 settembre, salvo imprevisti dovuti alle condizioni di salute del suo predecessore Giorgio Napolitano, arriverà in città anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le quattro giornate non sono un fatto di Napoli, certo è successo qua, riguarda la comunità nostra, ma il fatto che il presidente che è il rappresentante di tutti gli italiani ci dà l'idea che forse da Roma in su fanno difficoltà a riconoscere che anche il movimento di liberazione nazionale è nato qui.